5 minuti e monto in servizio no io ho smontato e tu non ti sposi? sposato no non ci penso proprio sto così bene pure io pure io poi con la mia ragazza il sesso alla grande ha letto bravissima e non sono il solo a dirlo opinioni diffusa beh muo vengo io ciao colleccia